Musica Terrore a Londra, un furgone in bestia dei fedeli musulmani all'uscita della mosca di Finsbury Park, un morto e decine di feriti. Sessantadue morti di cui quattro bambini tra le vittime del terribile incendio in Portogallo, l'Italia manda in aiuto due Canadair. Lanciata FreeJourn, piattaforma per giornalisti freelance, inchieste e reportage cercano finanziamenti sul web. Controlli di sicurezza al concerto dei Radiohead, niente tablet e batterie portatili nell'autodromo di Monza. Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 12.30 di TG Sestina. Cominciamo dalla Gran Bretagna dove c'è stato un altro attentato e ancora a Londra essere sotto attacco. Questa volta a essere colpiti sono stati i fedeli musulmani all'uscita da una moschea a Finsbury Park. Per adesso un morto e decine di feriti, il servizio di Marco Procopio. La scia del terrore non si ferma, ancora a Londra, ancora un attentato. È successo questa notte a Finsbury Park, nella zona nord della città, dove un furgone è piombato su un gruppo di fedeli musulmani appena usciti da una moschea. Il bilancio provvisorio è di un morto e decine di feriti, di cui almeno tre in gravissime condizioni. La polizia ha arrestato un uomo di 48 anni, che è stato subito bloccato dalla folla e buttato a terra. Evitato il linciaggio solo grazie all'intervento dell'imam Mohamed Mahmoud, il quale è riuscito a calmare la situazione e attendere l'arrivo della polizia. Ancora incerta la matrice dell'attentato e la presenza di eventuali complici, su cui Scott Mayard sta indagando in queste ore. E' stato un attacco a Londra e a tutti i londinesi, e dovremmo stare tutti insieme contro gli estremisti, qualunque siano le loro ragioni. Un episodio, quello di questa notte, che, secondo la più grande associazione di musulmani britannici, è frutto del clima di islamofobia degli ultimi mesi. Diversi testimoni affermano infatti di aver sentito l'attentatore urlare di voler uccidere tutti i musulmani. L'episodio è accaduto a poche settimane di distanza dagli attentati del London Bridge e di Manchester. Abbiamo con noi in studio il caporedattore del TG, Federico Turrisi. Federico, dopo anni di terrore in Francia, adesso è Londra essere nel mirino degli attentatori? Sì, purtroppo è così, due attentati in tre settimane. Londra che faceva dell'accoglienza e dell'integrazione, un suo manifesto, il cui simbolo è proprio il sindaco, Sadiq Khan, di origini pakistane. Adesso Londra è una città irriconoscibile, una città blindata, ed è entrata in una spirale di paura e di odio, proprio quello che vogliono i terroristi, che vogliono disfare il tessuto sociale. E questa è una sconfitta se verrà confermata la matrice islamofoba dell'attentato di questa notte, perché all'odio non si può rispondere con l'odio e non si può fare altro che condividere le parole di Jeremy Corbyn, uniti contro chi vuole dividerci. In tutto questo si indebolisce sempre di più la posizione di Theresa May, che aveva chiamato alle urne il popolo britannico per avere un potere più forte, per avere un potere più saldo. Quello che invece si constata è che May è sempre più sotto pressione, sempre più oggetto di critiche, e staremo a vedere anche in ottica a Brexit che cosa succederà. Grazie Federico. Ci spostiamo ora in Calabria, dove questa mattina la Digos ha arrestato un 29enne di origini irachene, accusato di fare propaganda per l'Isis. Ci aggiorna in diretta telefonica dal Tribunale di Catanzaro, Lorenzo Nicolao. Sì, buongiorno. Si è appena conclusa la conferenza stampa, che ha fornito ulteriori dettagli sull'arresto del giovane iracheno, che è stato accusato del reato di associazione a delinquere con finalità di terrorismo internazionale. La procura distrettuale antimafia di Catanzaro ha collaborato in questa operazione, che si è conclusa questa mattina, grazie all'intervento della Polizia di Stato di Crotone a la Digos, e il 29enne richiedente asilo è stato individuato attraverso delle intercettazioni di alcune telefonate, nelle quali principalmente riusciva a fornire notizie sullo Stato islamico, facendo proselitismo tra gli inquilini del centro SPAR di Crotone, di cui era ospite. Gli inquirenti hanno anche accertato che avesse in altre occasioni esultato per gli attentati, come in occasione di quello di Manchester. Tra le intercettazioni infatti sono emerse delle dichiarazioni, soprattutto nel corso di alcune telefonate con la sorella, dove diceva che non era necessario andare in Medio Oriente per poter sostenere l'Isis, ma che gran parte della propaganda per redimere gli insedelli si poteva fare in Italia, anche a costo di tagliare loro la gola. Queste le testuali parole dell'iracheno che adesso in carcere, ma secondo le indagini era già stato considerato una persona violenta precedentemente, e quindi era già sotto indagini da tempo. Grazie Lorenzo per ulteriori aggiornamenti. Da Catanzaro è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Lorenzo, per ulteriori aggiornamenti ti prego di chiederci la linea. Passiamo adesso al Portogallo. Continuano ad arrivare notizie terribili dell'incendio che ha devastato i boschi di Pedro Gao Grande nel centro del paese. Le vittime accertate per ora sono 62. Ci colleghiamo con la nostra inviata Valentina Iorio. Sì, buongiorno. Felice è cominciato in queste ore il lutto nazionale. Un lutto che andrà avanti per tre giorni. Questa è la decisione del governo a seguito della grave tragedia che ieri ha colpito il paese. Come ricordavi tu, nell'area di Pedro Gao Grande c'è stato un incendio. Un incendio che non è ancora stato domato. Mobilitati 1.500 pompieri. Anche l'Italia ha mandato i suoi aiuti. Sono partiti ieri da Ciampino due Canadair che stanno intervenendo nella zona. Si è cominciato anche a identificare le prime vittime. La prima vittima è un bambino di 4 anni. Un bambino di 4 anni che era in macchina con lo zio. Stava viaggiando quando un albero infuocato si è abbattuto sul veicolo causando la morte di entrambi. Moltissime sono le famiglie rimaste carbonizzate nelle loro auto e che non sono riuscite nemmeno a tentare la fuga. Infatti dall'area boschiva l'incendio si è diramato per chilometri e ha investito tutta la zona circostante. Si attendono ulteriori notizie. Si spera che al più presto le fiamme vengano domate. Per ora è tutto. Ti restituisco la linea. Grazie Valentina. Sempre dagli esteri si sono chiusi ieri in Francia i seggi. Trionfo per Emmanuel Macron. Al secondo turno delle legislative ha ottenuto 351 scanni in Parlamento. La maggioranza assoluta. Si segnala però una stensione record al 56% degli aventi diritto. Mai così alta in Francia durante la Quinta Repubblica. Da Parigi ci aggiorna Elena Zunino. Sì, Macron ha stravinto. Ieri ci sono state le elezioni. Il secondo turno delle elezioni legislative e il partito del neopresidente Emmanuel Macron, la Repubblica en marche, ha conquistato 308 dei 577 seggi dell'Assemblea nazionale, conquistandone così la maggioranza assoluta. Con i 42 seggi andati ai moderati democratici di François Beirou, alleati di Macron, il neopresidente ha dunque l'Assemblea nazionale in pugno. Con un dato però importante che è quello dell'affluenza. Ieri meno della metà dei francesi è andato a votare e gli elettori giovani e giovanissimi tra i 18 e i 25 anni hanno prodotto un tasso di astensione record pari al 75%. Un altro numero importante segnalato da Le Monde è che con questo voto il 75% dell'Assemblea nazionale, cioè il Parlamento francese, è stato completamente rinnovato e solo 145 dei 577 rappresentanti aveva già seduto in Parlamento. In definitiva abbiamo avuto un crollo dei socialisti, c'è il dato anche molto negativo per i gollisti, mai così male dal 58, 27 seggi andati alla sinistra radicale e 8 seggi al fronte a segnal di Le Pen che per la prima volta entra in Parlamento. Da Parigi è tutto, vi restituisco la linea. E adesso parliamo di novità nel mondo dell'informazione. È stata lanciata giovedì 15 giugno la piattaforma online FreeJourn che offre ai giornalisti freelance la possibilità di raccogliere sul web fondi per realizzare reportage e inchieste. Ecco il servizio della serata di presentazione. Purtroppo all'interno della categoria i giornalisti sono sempre più freelance perché diciamo che le case editrici tendono a espellare forza lavoro piuttosto che prendono. E quindi si crea tutto un mercato che in Italia è trascurato e che questa piattaforma ha l'ambizione di valorizzare in qualche modo. Speriamo ci riesca. La piattaforma ti dà la possibilità di pubblicare ti dà la possibilità di trovare il finanziamento però certo deve esserci il sottostante se no io la compro volentieri il tuo progetto se però il tuo progetto è valido se il tuo progetto è realizzabile. Spera dalla qualità dei progetti dall'entusiasmo dei colleghi che utilizzano la piattaforma per cominciare a lavorare, sperimentare per riuscire a non lavorare gratis poi infine. Quindi io penso che la bontà del progetto viene poi riconosciuta dal pubblico finanziata ma dietro deve esserci un grande lavoro perché non si improvvisa nulla. Passiamo adesso allo sport fa ancora discutere il caso Donnarumma pubblicate oggi le dichiarazioni del superprocuratore Minoraiola il punto sulla situazione di Daniele Polidoro. Sì perché non è stata una bella serata quella di ieri per Gigi Donnarumma e probabilmente non sarà l'ultima. Il portiere del Milan e della Nazionale Under 21 ha ricevuto una forte contestazione da parte di alcuni tifosi rossoneri del Milan Club Polonia che li hanno lanciato contro delle banconote. Ovviamente il riferimento è legato al mancato rinnovo del contratto con il Milan ma quello che ha fatto discutere e che continua a far discutere sono le dichiarazioni del procuratore di Donnarumma Minoraiola che ha dichiarato che il Milan non ha gestito bene la situazione del rinnovo contrattuale del suo assistito in particolare il riferimento di Minoraiola è legato a delle minacce fatte dal club rosso-nero al giocatore minacce che potevano essere riguardanti il mancato impiego del giocatore durante la prossima stagione ma Minoraiola ha dichiarato anche che al giocatore sono state fatte minacce di morte da parte del club anche se fa sorridere pensare a delle minacce quando al giocatore sono state offerti 5 milioni di euro all'anno chiudiamo con le dichiarazioni di Marco Fassone amministratore delegato rosso-nero che quest'oggi comunque ha lasciato aperta una porta al giocatore per un possibile ripensamento e vediamo se il figlio al prodigo tornerà a casa per il momento è tutto restituisco la linea weekend di concerti in Lombardia Manuela Gatti è andata all'autodromo di Monza per verificare le misure di sicurezza al concerto dei Radiohead mentre Giulia Riva ha raccolto a San Siro le voci dei fan di Tiziano Ferro ecco i servizi non è stata la rivoluzione annunciata dopo gli ultimi fatti di cronaca ma sul fronte sicurezza tutto è filato liscio 16 giugno Parco di Monza concerto dei Radiohead ci si deve rassegnare a camminare l'area del concerto è off limits a ogni tipo di mezzo i parcheggi sono lontani e gli ingressi sono protetti dalle barriere antisfondamento lo scopo è di evitare episodi come quelli di Berlino e Nizza dove i camion guidati da terroristi hanno travolto la folla prima di arrivare alla biglietteria bisognerebbe passare attraverso i metal detector anche se nei momenti di punta non tutti vengono controllati niente zaini e borse voluminosi fuori tutti i liquidi dall'antizzanzare alle bottigliette d'acqua a meno che siano senza tappo vietati anche i tablet e le batterie esterne dei cellulari a rischio esplosione all'interno birra e bibite vengono distribuite solo nei bicchieri di plastica in modo che nessuno si ferisca con i vetri come è successo alla finale di Champions a Torino polizia e carabinieri presidiano il posto e nei punti più stretti fanno procedere le persone a scaglioni per evitare schiacciamenti forse questa volta la lezione è stata imparata non resta che godersi il concerto in ogni stadio c'è una storia canta Tiziano Ferro lui ha 37 anni dopo oltre 16 anni di carriera lo stadio di San Silo lo riempie per tre sere di seguito con fan da tutta Italia quanto sei fan? abbastanza com'è stato il concerto? canzone preferita? tutte da dove arrivi? da Comabio provincia di Varete da... 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 da tutto il mondo e di tutte le età nonostante la paura di attentati e le nuove misure di sicurezza dal Belgio? ne vale la pena? assolutamente tanto passiamo alla segna stampa di Giulia Virzi che ci parla degli ultimi aggiornamenti dai siti dei maggiori quotidiani esteri Giulia quali sono le principali notizie del momento? buongiorno Felice lo abbiamo visto anche nel corso del nostro giornale le principali notizie della giornata sono l'attentato a Londra nel quartiere di Fisbury Park e l'incendio in Portogallo partiamo dai siti inglesi quindi andiamo a vedere come titolano su questa notizia camioncino contro la folla all'uscita della moschea muore un uomo la polizia arresta un uomo che ha ferito altre dieci persone siamo sul sito della BBC in quest'altra pagina all'interno dell'articolo vediamo alcune foto della serata di ieri con dei fedeli islamici musulmani che si sono riuniti per pregare insieme e per ricordare appunto con la preghiera la persona morta e i feriti di questo attentato in quest'altro articolo in quest'altra foto vediamo poi il camioncino usato per l'attentato e la zona appunto transennata con la vittima ci spostiamo sul Guardian anche qua si apre con questa notizia e andiamo a vedere come il quartiere di Fisbury Park sia uno dei quartieri di Londra più multietnici in corso anche di gentrificazione ci spostiamo velocemente sul Paese dove si apre invece con l'incendio in Portogallo che per il momento ha causato almeno 62 vittime per il momento è tutto a te Felice grazie Giulia chiudiamo con il meteo chiedo sempre a te le previsioni per questa settimana appena cominciata ci aspetta molto caldo siamo sul sito del meteo.it e appunto si titola forte ondata di caldo in arrivo ci aspettano temperature per tutta la settimana in particolare nel weekend comprese fra i 36 addirittura i 41 gradi perché è in arrivo e qua lo vediamo in quest'altra cartina in particolar modo appunto nel weekend l'anticiclone Caronte che appunto come scrivono sul sito di meteo.it ci traghetterà verso l'estate a te grazie Giulia e da TG Sestina è tutto grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione bene